Unitamente ai migliori palazzi nobiliari della zona, rappresento un elemento di forte identità interna, una piazza nuova, nel cuore di un gioco. Il palazzo è obiettivo nel punto di confluenza per i miei canali e il suono. L'ingresso principale attraverso un grande portale immette nell'ampia scalinata d'accesso al piano nobile e al cortile interno. La prima sala di accesso al piano mobile di quello che rimane del vastoso salone ingresso. Alla prima di riuscire ha realizzato un'emica del fresco, lo stemma della famiglia Boggia. Come secondo me, non c'è l'impressione a seguito di scritte le altre regioni realitarie, quindi sull'inizio e la famiglia. Per considerare la revisione delle stanze, anche la volta fu parzialmente abbanduta e ne venne realizzata una nuova di color bianco. Durante i lavori di restauro, i miei proprietari hanno deciso di aprire parzialmente la volta a postvigia, in modo da mostrare parte delle decorazioni originarie perfettamente conservate e allo stesso tempo consentire la comprensione della tecnica di costruzione delle volte, a partire da scendere i filibri del passavento. Siamo ancora là. Dall'osservazione della volta parzialmente aperta, si possono notare le cimali di mie e che bu. Questa spazza prende il nome dai sovrapporta decorati con dei miei timorali realizzati all'interno di cornici del mollancato e dorato. Le vedute e i paesaggi, sia naturali che i cittadini, sono tipici della nuova corretta artistica del Tartus e del Cerno, e poi nata a 20-4. Questo movimento nasce sti in 20 anni, a partire da un modo l'overenza. E' possibile distinguere tutti i uomini, il primo denominato capriccio, il quale l'artista riproduce una rifagione da un'idea di fantasia, o costituire i dati letterari, o di loro, per fare delle cose, come su da.